ciao a tutti bentornati o ben arrivati sul canale se è la prima volta che approdate da queste parti allora oggi sai do rimanie ossia tutte le cose che mi piacciono tutte le cose che catturano la mia attenzione e quindi diventano un po la mania del mese quelle cose che uso tanto in quel mese che noto che mi sono piaciute tanto e di cui poi decido appunto di parlarvi come al solito trovate l'info box aggiornato dove posso vi lascio link quando si tratta di piccole collaborazioni ossia quando il prodotto mi viene inviato ve lo dico tranquillamente mentre appunto vi faccio vedere le cose e comunque nell'info box poi trovate tutte le informazioni aggiuntive appunto anche i link quando riesco a reperirli allora inizio a parlarvi di una piccola collaborazione nel senso che questo prodotto questo artigiano si è offerto appunto di inviarmelo io ho guardato che cosa mi stesse proponendo sul sito etsy e siccome ho trovato veramente carine alternative le cose che faceva accettato e poi nell'info box trovate credo un codice sconto sì e anche ovviamente il link al suo negozio questo artigiano in questione fa dei porta pennelli in legno quindi se siete un po stufe dei soliti porta pennelli di che che abbiamo tutte quei vasi decorati di che si trovano in tutte le make up table fateveli fare personalizzati io ho scelto il set da tre e ci ho fatto scrivere in uno l'angolo di saidori sono praticamente fatti in legno e dipinti in questo caso di bianco ora non so le alternative che lui abbia però potete tranquillamente andare a sbirciare vedete sono dei porta pennelli in legno uno in uno fatto scrivere l'angolo di saidori nell'altro ho fatto scrivere ice e sul terzo ho fatto scrivere face in modo da avere diciamo pennelli da viso pennelli da occhi e in questo pensavo di mettere i pennelli sporchi in modo da andare poi a lavarli con un po più di regolarità li avevo messi qua sotto nel nel tavolino anche per un periodo perché dovevo un po rimettere a posso sistemare qua ma adesso li metterò appunto nella nella make up table e dividerò i pennelli che finalmente ho lavato e quindi sono pronti da essere inseriti qua ovviamente in infobox trovate le indicazioni poi altra cosa ragazzi di cui mi sono non dico innamorata di più cioè è un oggetto di cui mi rendo conto di non poter più fare a meno quando me l'avevano mandato vi avevo detto subito che mi era piaciuto anche questo è quindi un oggetto che ho ricevuto attenzione molti dei prodotti che vedrete sono prodotti che ho ricevuto perché ho la fortuna come blogger di poterli provare però sapete che a volte vi parlo di quelli che ricevo vi parlo di quelli che compro io cioè di quello che mi piace di cui mi innamore che mi piace finisce nelle sedoni mani e non non ho vincoli non sono assolutamente collaborazione retribuite posso fare quel che mi garba scusate ogni tanto mi si strozza la voce per via del fatto che quando parlo tanto un po il mio polmoncino ancora fatica il prodotto di cui vi voglio parlare è il libot questo aggeggio prodotto da questa azienda che si chiama ecovax covax o i covax robotics non so ve lo faccio vedere da vicino così vedete anche il nome è qua sotto il brand io di questo prodotto ho fatto una review completa quindi c'è proprio un video che ovviamente vi lascio anche quello in infobox se riesco anche qua in scheda non lo so ma sicuramente in infobox con il link al prodotto lo trovate su amazon e questo è una sorta di aggiornamento perché già il prodotto mi era piaciuto tantissimo nei primi giorni ma adesso a distanza di più di un mese di utilizzo io non ne posso più fare a meno è cambiato leggermente il mio modo di utilizzarlo nel senso che prima pensavo fosse sufficiente mandarlo ogni uno due giorni cioè un giorno sì un giorno non ho anche due ogni due invece adesso lo mando a fare il suo dovere ogni giorno perché avevo notato facendo andare ogni giorno che ogni giorno raccoglie un sacco di sporco in questo momento gli manca come vedete qua il suo vano raccogli polvere perché l'ho appena utilizzato e quindi ho lavato il vano raccogli polvere perché il vano raccogli polvere si può completamente smontare cioè aprire e togliere uno dei due filtri uno è lavabile l'altro no e lavarli completamente quello non lavabile è una sorta di filtro in carta che poi va sostituito ogni toto infatti devo comprare i ricambi ragazze è una dritta perché anche quando la mattina voi vi svegliate siete di corsa magari avete un'ora per fare colazione prepararvi eccetera in quell'ora lo fate andare avevo prima la fissa di dover tirare tutto su per fargli prendere tutti i lati possibili della casa gli angoli eccetera adesso lo faccio se ho tempo se non ho tempo lo faccio andare con le cose anche in giro raccolgo certo per robe per terra non ne ho mai perché non sono così disordinata però magari non tiro su che se ho gli sgabelli eccetera se non ho tempo e lui va dove riesce ad andare tanto mandandolo a fare il suo lavoro tutti i santi giorni la moquette perché purtroppo la moquette ai tappeti e non entro in casa con le scarpe è sempre sempre molto 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 pulita e mi rendo conto che prima effettivamente a questo punto non lo era perché se adesso vedo che lui raccoglie sporco tutti i giorni quindi prima non era sufficiente lo rimettiamo giù mi sono segnata una lista perché vi voglio parlare anche di due due si eccoli qua infatti li ho messi qua due prodotti che ho usato tantissimo nel mese di agosto e che mi sono piaciuti veramente tanto sono entrambi di questo bel colore arancione vitaminico mi dà proprio senso di energia di prodotto super estivo però mi fa piacere continuare ad utilizzarli anche nel diciamo in settembre finché non arriverà proprio il vero e proprio freddo uno è un prodotto per occhi che si chiama è famosissimo in questo momento ne parlano in tante l'ho provato mi è stato inviato da sephora e ne parlavano tutto e ho detto vabbè lo provo subito è l'ole henriksen il banana bright eye cream un prodotto alla vitamina c e al collagene l'ho trovato veramente molto buono ho visto proprio il mio contorno occhi veramente luminoso le occhiaie non ne ho praticamente avuto occhiaie quest'anno devo dire la verità molto chiaro il contorno occhi è veramente mi ha veramente tolto lo scuro dal contorno occhi anche molto idratato e molto disteso la mattina quando mi sveglio perché questo è un contorno occhi adesso cerco di mettervelo in primo piano ma ripeto comunque lo metto in info box è un contorno occhi che uso la sera la mattina ne uso un altro che mi è altrettanto piaciuto ma di cui vi avevo già parlato quindi questo è assolutamente super promosso e lo uso già da fine luglio probabilmente mentre questa è poi una new entry delle ultime due settimane di agosto diciamo da quando sono tornata dalle vacanze di budapest si chiama origins ginsing è una energy boosting gel moisturizer è proprio una crema gelatinosa molto molto leggera e molto adatta nei momenti in cui c'è molto caldo perfetta come base trucco è un profumo veramente intensamente e profondamente idratante vediamo se eccola qua si vede molto bene la trovo veramente molto buona ha un profumo arancioso quindi sì anche questa sta di arancia e non so esattamente quali siano i suoi attivi vi dico la verità perché ho buttato un po' la scatolina non me li ricordo però è proprio se vi devo dare un feedback per quanto riguarda l'utilizzo immediato da proprio subito una sensazione di fresca e di profonda 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 idratazione quindi mi piace moltissimo soprattutto perché ho ripreso visto che il caldo non è così intenso come quest'estate ormai a utilizzare il fondotinta e sotto il fondotinta mi piace moltissimo da utilizzare questo prodotto l'alterno o a un prodotto con la protezione solare integrata oppure ci metto poi sopra una protezione solare quindi voglio che siano due prodotti leggeri perché sennò mi sento che non mi aderisce bene il il fondotinta e questi erano i due prodotti skin care di cui volevo parlare poi fatemi vedere perché ma ecco restando in ambito skin care un'altra delle sei dori manie è senza dubbio il foreo luna mini 3 questo prodotto mi è stato inviato agli inizi di agosto l'ho utilizzato nel periodo pre budapest è appena rientrata dal mio viaggio come sapete la mia sfida per quest'estate era partire a budapest per quattro notti cinque giorni con un mini 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 zainetto veramente con il super indispensabile quindi l'ho utilizzato prima di partire e poi ho iniziato ad utilizzarlo in maniera veramente costante intensa dal ritorno delle vacanze mi piace moltissimo uno dei plus se avete visto il video in cui appunto ne parlavo per cui l'azienda diciamo tesse le lodi del suo prodotto è una delle cose che mi piacciono moltissimo sia che non ci siano testine da dai a cambiare e comunque delle setole che si debbano asciugare infatti nei device che hanno la testina da da cambiare il problema è che quando te li devi portare in viaggio di quando li devi riporre la testina bagnata poi le setole vanno a puzzare in questo caso invece è praticissimo perché lo asciugate con la vostra asciugamano lo riponete e il prodotto è perfetto igienico pulito e non puzza mi piace moltissimo pulsa e quindi vi va a pulire il viso in maniera molto profonda io ne sento particolarmente il bisogno nel periodo in cui uso le creme solari molto spesse quindi ero ero stata al mare in liguria per un po di giorni e io al mare tendo ad utilizzare più crema che non in città proprio perché sono costantemente sotto il sole anche se uso tantissimo l'ombrellone come sapete il è il cappello di paglia però uso una protezione solare più spessa questo tende a sporcarmi un po più la pelle quindi un utilizzo di questi device soprattutto nel periodo del ritorno dalle vacanze vi consente di avere una pelle veramente molto più pulita ho sempre utilizzato dei device per la pulizia della pelle perché trovo che la differenza si vede come questo devo dire che mi piace molto e che è diventato attualmente il prodotto che utilizzo sempre anche di questo vi lascio in info box ovviamente il link se volete insomma andare a vedere il sito e avere più informazioni ma poi c'è anche il video che avevo fatto di presentazione che nel caso vi lascio anche questo in info box vi volevo parlare di un aggeggio che è la bottiglia metallo che ho veramente rivalutato quest'estate mi fa un grande parlare di ecologia di bottiglie di plastica che ovviamente dovremo cercare di eliminare quanto più possibile perché in cui stiamo inquinando in maniera esagerata il pianeta ho rispolverato questa bottiglia si tratta della 24 bottles peraltro a venezia ho visto il negozio o un negozio che vendeva queste bottiglie io ce l'avevo nello zaino l'ho portata dietro perché mi è capitato ultimamente col caldo di notare che proprio la bottiglia tralasciasse la bottiglia plastica lasciasse andare verso l'acqua uno sgradevole sapore appunto non dico plasticoso ma indefinito fastidioso la bottiglia invece di metallo devo dire che innanzitutto mantiene molto meglio la temperatura dell'acqua se ce la metto fresca e mi sembra più igienica quindi quando la vado a sciacquare ha sempre non ha mai odore e la lavo molto meglio e quindi ho iniziato a portarmi dietro la bottiglia da riempire perché devo dire che in giro trovo spesso delle fontane quindi riesco a riempire l'acqua quindi anche a milano spesso me la porto dietro soprattutto per esempio se devo andare in centro a milano più o meno ho imparato a conoscere i punti dove trovo delle fontane dove posso riempire l'acqua il mio problema però è questo ok uso la bottiglia di metallo non la bottiglia di plastica però poi trasferisco in questa bottiglia il contenuto delle bottiglie di plastica che io compro perché purtroppo ahimè ragazze a milano l'acqua del rubinetto è durissima è veramente molto calcarea io ho sofferto di episodi di coliche renali quindi mi si formano facilmente dei calcoli devo utilizzare un'acqua con basso residuo fisso e quella del rubinetto di milano è tremenda le casette dell'acqua che molte mi hanno segnalato a milano erogano la stessa identica acqua del rubinetto come è segnalato nel loro stesso sito nelle casette dell'acqua c'è scritto puoi prendere l'acqua che è la stessa che sgorga dal rubinetto di casa tua allora io mi dico che pro e che vantaggio ha avere le casette dell'acqua in giro mettete delle fontanelle facciamo prima come risolvo molte mi hanno parlato delle carafe filtranti ma parlando con delle persone che mi sembrerebbero competenti mi hanno detto che sono una grandissima bufala non filtrano proprio nulla e quindi l'acqua dura è calcarea e calcarea resta quindi sto usando la bottiglietta di plastica quando vado in giro quindi si bevo l'acqua che trovo nelle fontanelle che poi è l'acqua di milano però devo dire che spesso e volentieri la riempio da casa con le mie bottiglie di plastica quindi non so bene come agire altra cosa che ha diciamo caratterizzato la mia estate è l'utilizzo degli zainetti adesso vi faccio vedere due zainetti che ho comperato uno l'ho portato come a budapest e forse l'avete visto e l'altro è una new entry abbastanza più recente quando infatti sono andata a budapest come sapete nello zaino grosso avevo questo piccolo zainetto di primark che si piega alla perfezione che ho pagato sui 12 euro che avevo messo così dentro il mio zaino si piega è in tessuto tipo impermeabile e che sto usando adesso anche al ritorno in città perché è molto carino abbastanza neutro come colori e è molto comodo da portarsi dietro dietro c'è un biglietto della metro però questo zainetto ha il difetto di non avere quando sono andata in giro a budapest e mi sono resa conto di questo la taschina esterna per inserire appunto la bottiglia che io voglio appunto gli zainetti chiamano una taschina esterna per inserire la bottiglia perlomeno quando giro come turista e quindi mi ero messo un po' alla ricerca di uno zainetto nuovo da comprare ne ho trovato uno molto carino che ho usato nei giorni diciamo di vacanza con mio fratello in giro per la per il nord italia di decathlon questo di decathlon mi è piaciuto veramente tanto l'ho pagato 12 euro credo e 90 è questo qua della quechua un po' ovviamente sportivo rispetto all'altro con una tasca qua frontale vedete che si apre qua è una tasca grossa che fa ovviamente accedere all'interno dello zaino che poi ha una tasta ulteriore dietro dove magari potete mettere la guida o qualcosa che volete trovare più facilmente ma anche una taschina qua vedete più piccolina dove magari mettere cose piccole che andrebbero a perdersi facilmente è molto carino e ha il vantaggio di avere come vedete la taschina laterale da una parte e dall'altra per metterci la bottiglia quindi lo trovo veramente molto molto carino è adeguato alle mie spalle io sono piccolina con uno zainone andavo a perdermi ne ho visti altri ma erano veramente molto grandi questo è piccolino lo vedete quindi è molto molto adatto per portare delle cose ridotte per insomma un giro che insomma non è lo zainetto con cui potete portare il vostro bagaglio ma con cui poi potete girare nel posto in cui vi trovate questo senz'altro ha le bretelle molto imbottite molto comode e poi ha questa specie vedete di retina che si stacca dal retro dello zaino che ha una specie di tessuto dentro gommato, areato insomma ha questo sistema di areazione per cui non vi si appiccica la schiena e ha anche questo sistema per attaccarsi vedete davanti e fare in modo che non vi si spostino le bretelle quindi quella roba da attaccare qua davanti è molto carino quindi ve lo consiglio perché mi ci sono trovata molto bene poi allora parliamo di fisse più modaiole, più fashion erano un po' di tempo che cercavo un orologio del genere e mi sono regalata un braille lo desideravo veramente da parecchio un orologio così un po' di taglio più maschile un cronografo nel specifico è questo qua di Braille gli ho fatto appena levare le maglie per poterlo indossare ma l'ho comprato a fine luglio non ero ancora andata neanche in ferie è un cronografo appunto di Braille piuttosto vedete maschile nel suo design non sono un'appassionata di orologi quindi non me ne intendo gli ho fatto levare le maglie e lo sto utilizzando e mi piace moltissimo vedete lo metto in questo braccio con tutti questi bracciali così ho una domanda da farvi innanzitutto trovo che l'orologio su certi look dia proprio un tocco in più io adesso ho riniziato ad utilizzare moltissimi bracciali quindi un'altra mia fissa del mese sono senza dubbio i polsi pieni di braccialazzi molte di voi mi dicono facci vedere i bracciali che usi diciamo che io non li levo mai li tengo sempre al polso quindi sono più o meno sempre gli stessi ma ve li posso anche far vedere e di sera tolgo soltanto appunto l'orologio quello lo levo sempre ho da farvi una domanda voi appassionate come me magari di bracciali e di orologi secondo voi i bracciali che sfregano sul vetro dell'orologio lo rovinano? cioè il vetro dell'orologio si rovina? questa è la mia fissa ed è il motivo per cui tendo a non o tendevo adesso con questo orologio un po' ho fatto questo passo ma più che altro perché questo orologio essendo spesso non consente ai bracciali di passargli sopra mentre ho degli orologi più sottili dove appunto il bracciale tende ad andarci sopra e ho paura che si rovinino voi cosa ne dite? comunque al di là di questo fissa del mese era senza dubbio trovare un orologio che mi piacesse un cronografo un po' così maschile e sportivo più casual e comprarmelo perché non lo avevo e lo desideravo da anni quindi mi sono fatta questo regalo l'ho comperato ad una svendita di Braille non tanto una svendita sì una vendita privata credo fosse per i dipendenti a cui sono stata invitata e quindi l'ho potuto comperare ad un prezzo molto migliore del suo prezzo di listino che era anche piuttosto corposo poi altra cosa fashion porto sempre da tipo luglio a questa parte le collanine d'argento ne ho praticamente tantissime e me ne vedete sempre qualcuna al collo tante di voi soprattutto nei vlog di Budapest mi hanno chiesto Silvia dici dove prendi le collanine guardate questa è la mia piccola collezione sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici poi ne ho un'altra lì che ho usato ieri e che ho levato quindi quattordici avevamo detto quindici insomma ne ho un bel po' la maggior parte le ho prese in un sito con cui collaboro di cui vi ho sempre parlato e che mi piace tantissimo che è Emanco però Emanco praticamente mi manda soprattutto bigiotteria mentre dalla sua sezione che si chiama Tardù mi manda proprio queste collanine d'argento perché queste sono tutte argento 925 una per l'altra e qualcuna di queste me l'ha inviata anche un altro sito che si chiama Sufil che sicuramente conoscete ma la maggior parte sono appunto di Emanco quindi io vi lascio il link di Emanco che lo trovate appunto su Aliexpress è super affidabile le collanine sono bellissime mi durano veramente ormai collaboro con loro da credo più di due anni e io ci faccio ovviamente la doccia è argento 925 quindi ci potete fare quel che vi garba io le trovo veramente deliziose non so se di tutte riesco a trovare ovviamente il link penso che magari vi metterò un link generico al sito poi vedete voi cosa trovate comunque ne ho veramente tante da quelle con la semplice barretta vedete di metallo a quelle con il punto luce con lo zircone a quelle come questa qua che hanno la piastrina rotonda poi ci sono quelle che hanno semplicemente il cerchietto questa qua che mi piace moltissimo e che avevo ieri che ha, aspettate che ve la faccio vedere da vicino che ha la mezzaluna che anche questa mi piace tanto e sempre da loro ho preso anche queste mezzalune che porto spessissimo e non levo da un po' di tempo ce le ho appunto fisse come anche queste barrette che ho nel terzo buco queste barrettine qui semplicissime e anche i cuoricini insomma ho preso quasi tutti gli orecchini d'argento che mi vedete molto piccoli e li ho presi da loro e anche tantissimi degli anellini d'argento che uso di solito quindi è un sito che è assolutamente affidabile e vi consiglio per finire vediamo se vi ho detto tutto perché mi ero fatta degli appunti per finire sempre rimanendo sul fashion per tutto agosto mi sono agitata alla ricerca delle scarpe che volevo ormai indosso praticamente solo scarpe da ginnastica le avevo desiderate fin dall'inverno ma sinceramente le vedevo nel negozi costavano tanto sono delle scarpe che costano tanto per me non ero disposta a spendere quei soldi per delle scarpe nonostante mi piacessero tantissimo si tratta delle fila le fila cosiddette distruptor e volevo le distruptor 2 print un modello particolare e peraltro anche quando poi ho visto che anche Vittoria aveva cedute e se le era comprate io come una pecorella le ho volute ancora di più perché ce le aveva la mia amica ha detto no le ha prese le voglio anch'io e ho iniziato proprio a vedere se nei negozi le avessero messe per i saldi ho scoperto che Food Locker aveva messo quelle che mi piacevano a 59,90 e ho iniziato a girare come una trottola per trovarle non si trovavano da nessuna parte con mio fratello anima santa ho fatto tipo un'ora di strada per andare nel centro commerciale dall'altra parte di Milano a trovarle e non c'erano perché mi avevano detto nel negozio di Asago che le avrei trovate e invece sono arrivata lì e non c'erano però poi ragazzo mi ha risolto il problema perché me le ha fatte ordinare online allo stesso prezzo e probabilmente io non le trovavo perché non andavo nella sezione bambino mentre il mio numero è bambino ho preso quindi un 36,5 quindi un 4,5 statunitense e un 3,5 inglese e ho preso finalmente le mie fila di Struptor le adoro sono bruttissime e mi piacciono per questo motivo sono veramente molto grossolane molto cicciotte e hanno la pelle tipo vernice bianca e hanno questa super scritta laterale con scritto sopra Born in Biella via Cesare Battisti 26 13 0 61 e poi c'è scritto Established in 1911 quindi 1911 se non sbagliano insomma le adoro mi piacciono tantissimo praticamente in questo periodo mi sto vestendo quasi esclusivamente di rosso blu e bianco infatti anche nella foto che avete visto su Instagram molte mi hanno chiesto che scarpe porti erano queste ed era quel look dove avevo la magliettina a righe rosse e blu la gonna blu e appunto le scarpe bianche e peraltro se non mi seguite su Instagram sta cascando tutto e vi fa piacere farlo mi trovate semplicemente come Saidori allora questo era tutto per quanto riguarda le Saidori Manie spero soprattutto come al solito di avervi tenuto compagnia però devo dire che questo mese era bello scoso a me mi piaceva questo Saidori Manie mi ha dato soddisfazione quindi spero che sia piaciuto anche a voi e basta niente che vi devo dire che ci vediamo domani domani per un nuovo video perché ragazze io a settembre sarò costante sarò veramente costante non sono stata costante nel weekend del sana perché tipo il 6 e il 7 io mi sono dimenticata di caricare i video erano pronti e io sono salita sul treno e ho detto c'è qualcosa che non ho fatto non avevo caricato i video li avevo girati e non li avevo caricati non mi è tipo mai successo nella vita probabilmente avevo altre cose per la testa ma niente spero che non succeda mai più non va bene Saidori e non va bene ci vediamo domani ciao ciao Grazie a tutti